Esplosivanti, MTIRs è il momento di Disney Plus per questo gennaio 2022, con tutti i nuovi arrivi e consigli. Partiamo! La velocità smodata è ancora attiva e non riesco più a fermare la lingua che è totalmente impazzita. Vi prego, aiutatemi, vi prego, premete il tasto rosso d'emergenza. Ora, ora, non ne ho più tempo. Vi prego, premete lo tasto. Ora, 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 ora. È giunto il vostro momento, MTIRs. Potete salvare il vostro paladino delle anteprime e visioni assurde premendo il tasto rosso d'emergenza, continuando la visione. Altrimenti dovrete saltare direttamente al segnatempo. Io vi troverò. Ah, grazie davvero a MTIRs per aver premuto il pulsante d'emergenza. Fatti un attimo vedere. Sì, sì, proprio tu. Lo so che l'hai premuto tu prima di tutti. Grazie, grazie. È un piacere avverti nella compagnia degli MTIRs. Io sapevo che tu saresti stato fondamentale. Ora, il sistema impiegherà qualche minuto per riavviarsi ed è il caso che lo sfrutti per parlare delle anteprime di Disney Plus per questo gennaio 2022. Prima a far tutte, in arrivo il 5 di gennaio, la seconda stagione di Big Sky. Ottima serie poliziesca e investigativa con rapimenti e morti che non ti aspetti. Ottima tensione e atmosfera che, se vi piace il genere, è assolutamente da vedere. Continua sempre con l'uscita del 5 di gennaio parlando di Antares, spirito insaziabile, storia palesemente horror basata sul racconto The Quiet Boy. E segue le vicende di un insegnante e di un ragazzino che, diciamo supportati dallo sceriffo fratello dell'insegnante, scoprono un misterioso animale ancestrale. Questa premessa non pare di buon auspicio, vedremo. Passo ora però a un signor film comico che all'epoca fece molto parlare di sé. Fulmonti, squattrinati e organizzati in arrivo il 7 di gennaio. Film non solo comico, ma che puntava il dito sulla situazione lavorativa in certe aree degli UK dovuta alla delocalizzazione della produzione. Film che ha fatto esplodere i talenti Robert Carlyle e Mark Addy. Da vedere immediatamente. Tornando indietro nel tempo, invece bisogna citare l'altra faccia del pianeta delle scimmie, sempre in arrivo il 7 di gennaio, seguito del 1970, del più famoso pianeta delle scimmie. Incredibile come siano riusciti a far recitare così bene quegli animali. Più di 50 anni fa dobbiamo anche a quel duro lavoro di integrazione il fatto che ora dei veri alieni possano recitare nei nostri film. Ma passiamo ai carichi pesanti di questo mese in arrivo su Disney+. Il primo sono sicuramente le tre ore di Eternals, che sarà disponibile dal 12 di gennaio. Un film sicuramente meritevole e pieno di spunti per nuove ambientazioni del MCU. È stato diretto dal premio Oscar Klozao, che ammettiamolo, ha esagerato. Togliendo forse anche un'ora a questo film, il risultato non sarebbe per nulla cambiato. A tratti è veramente palloso, da vedere e vorresti fare un avanti veloce. Però, come dicevo a diversi bei personaggi, l'introduzione è di un certo, diciamo, supereroe. A voi la visione che io ho già dato al cinema. Ma parlando sempre di super filmoni colossal, perché non buttarsi su Pearl Harbor in uscita il 14 di gennaio? Probabilmente la più grossa ricostruzione esaltante dell'amore e gli Stati Uniti d'America, che mai sia stata fatta sullo stacco spregiudicato dei giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un film che proprio non riesco a convincermi a rivedere causa o vattatura romantico-amorosa. E se non lo avete ancora visto, o siete stati fortunati, o non avete avuto, come me, un'amica che vi ha costretto a vederlo dicendovi che era bellissimo. Qualcosa doveva insospettirmi. Ma c'è ancora spazio per delle signore uscite e la prima è First Wave, prevista per il 21 gennaio. Si tratta di un documentario in presa diretta dei primi giorni a New York, quando la pandemia, con la P maiuscola, ha iniziato a diffondersi nella città. Quattro mesi vissuti dal regista, fianco a fianco con un gruppo di medici, infermieri e pazienti di un ospedale, appunto, new yorkese. Non penso serva aggiungere altro, invece un film su cui bisognerebbe dire tantissimo è Jojo Rabbit, disponibile dal 21 gennaio. Un film satirico sulla seconda guerra mondiale incredibilmente ben girato da YTT, che si prende pure la libertà di fare un ottimo Adolf, che probabilmente non si vedeva dai tempi di Chaplin. Storia incentrata su di un bambino incredibilmente plagiato dalla propaganda nazista, che vede tutto il suo mondo da dietro quelle lenti distorcenti, impendendogli di capire il comportamento della madre. Un film imperdibile, assolutamente. E abbiamo ancora spazio per gli amanti della Marvel, con l'arrivo di Marvel Hit Monkey, il 26 di gennaio. Serie animata dedicata al personaggio secondario, per non dire pure tanto assurdo e bizzarro, di Hit Monkey, apparso nei fumetti di Deadpool. Ma chi è Hit Monkey? Semplicemente un macaco giapponese che viene addestrato da un grande sicario degli Stati Uniti per completare una vendetta personale. Serie quindi dei toni surreali e sulla falsa riga di Deadpool, che sicuramente vuole attirare quel tipo di pubblico giovane. Forse vi state chiedendo quando finirà questo video. In effetti ormai ci siamo, ma voi prima di tutto dovete mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, se già non lo avete fatto, magari attivando pure la campanellina. E non dimenticate la cosa più fondamentale di tutti. Commentate senza ritegno e fatemi sapere quello che vi attira e ispira di questo mese su Disney+. Non pretendo poi che condividiate questo video sui vostri social, ma se lo fate, che una pioggia di love scenda su di voi. Noi comunque ci si vede al prossimo video MTIers. Ciao! Se siete arrivati fin qui, vuol dire che non avete premuto il pulsante d'emergenza. Sappiate che so chi siete. Io vi troverò.